Grazie per la fiducia che avete ancora una volta riposto in me, ma grazie soprattutto perché le cose che avete fatto in questi mesi, in questo percorso congressuale, le parole, le idee che avete espresso fino ad oggi in questo congresso sono per me uno stimolo ad andare avanti, uno stimolo a rappresentare le tante idee forti, ma soprattutto le grandi passioni civili che voi esponenti di questa parte importante della società italiana e del mondo cattolico italiano avete espresso e portate avanti ogni giorno. Di parole da me ne avete già sentite tante, domani farò la replica, non ne aggiungo. Se non consentitemi un'invocazione e anche con grande emozione che si accetta un momento come questo. Fare il Presidente lo sapete, lo sanno moltissimi di voi e anche una fatica grande per la nostra vita è un momento sempre difficile che ci pone di fronte alle scelte importanti. Ebbene io chiedo in questo momento al Signore di aiutarmi e lo chiedo con le parole di una persona che tanto ha dato al suo Paese, tanto ha dato alla sua Chiesa e soprattutto che ha saputo fare del riformismo, della capacità di essere coerente fino in fondo, una testimonianza di vita. E uso le parole e la preghiera di Tommaso Moro per andare a dirvi qual è il sentimento che io provo fino in fondo e anche l'impegno che mi assumo solennemente qui davanti a voi dopo aver ricevuto appunto da voi questo mandato di cui davvero vi ringrazio di tutto cuore. Signore, che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare ma soprattutto che io possa avere l'intelligenza di saperle distinguere. Grazie amici.